Ribaltone Roma, via Berardi con immediato, cosa succede adesso? Roma attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Roma ha annunciato l'interruzione immediata del rapporto lavorativo con Pietro Berardi, che ha ricoperto il ruolo di corpo reiceo del club giallorosso dal 6 ottobre 2021. Berardi era arrivato alla Roma con una brillante carriera che aveva visto lavorare in posizioni di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo. Roma, il comunicato ufficiale la Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare. Con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il club e le società appartenenti al gruppo. La società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi. Roma, un nuovo aceo in arrivo per il club giallorosso arriverà a breve un nuovo aceo che tra i vari compiti e obiettivi, si occuperà anche del progetto stadio. Virgola.